a rieccoci a un altro video odierno vediamo lo schifo di oggi a quanto arriva quanto ammonta anche questa mi sa che l'acquittiamo subito boh vabbè ma va bene io non so che cazzo mi sta prendendo in quei dici punti poi per vincerli per recuperarli devi vincere i due di fila questo è lo schifo del gioco questo lo schifo del gioco e vabbè vabbè campioni questo metto il campione dove fa quello ma se sei difensivo come vincate nemmai già sto grande cose strane nel momento in cui deve tirarsi le vacca pochia questo mercambio guarda come arrivi un po' a gol ma vabbè 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 Grazie a tutti E dai però non sono mai in anticipo io raga cioè con tutto il rispetto per questi qua però dai ma quando cazzo siete i culi però cioè non è possibile ma dai Tony Cross più veloce di anno va bu va Dove va Ronaldo? Mamma mia raga Se mi fa mi fa il pezzo di merda Che giustamente sempre di palla facciamo subito un palpa non glieli fischi Non tanto a fare di più Altro bruciato sto prendendo guardate il culo poi non sono culi guardate guarda non sono culi Testa di cazzo Che ti stai facendo la finale di Champions League contro di me ma c'era vero che io sono un comune mortale Non sono il tuo rito che se lo batti potresti essere soddisfatto Guardate il bug del fallo che non fischiano guardate il fallo del bug che non gli fischiano a questi Guarda 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 guardate dai i trucchetti come ogni santissimo videogioco ci sono i trucchetti Dai tempi del comodo 128 guardate gli ha fatto il fallo non gli ha fischiano guardate quel guarda 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 E nessuno che li va incontro Quello che non salta e va a finire a lui la palla è inutile Per il momento è segnato con un gol fatto da me Merito campione Guarda come li vanno il doppio a lui guarda di velocità guardate La reazione proprio sono riattivi al cento per cento di guarda eh si continua a fare il coglione Continua a fare il coglione guardate io non c'ho nessuno guardate come rientrano tutti a lui guardate E' no 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 Assurdo Non ho nessuno Io c'ho pure in vape che va piano raga ma di che cazzo parliamo Fa sempre la solita giocata raga E' quello sta sempre col da solo non è possibile Ma eh non farli di più ma ma mi stai a far troppo di più Che è montato del quanto mi danno al cazzo questi personaggi Quanto mi danno al cazzo questi personaggi Come giovedì scorsa raga Io perderei punti come giovedì scorsa Vi ricordate? Eh re 2 Va bene Vabbè Vabbò Vabbè vai a fare la punta Ma Cristo Santo vai a fare Eh e batti Mamma mia Che cazzo E batti Testa di cazzo 3 ore Se culo rotto Guardi i ribazi che stai avendo Dai Hai segnato con una mia palla Hai segnato con una mia palla Sbagliata Guardati quanto sei culo Vieni Vieni dai Vieni Vieni Testa di cazzo Leccese Fum stay cheat Va bene Se che cazzo De cazzo Vieni da cazzo Si cazzo Vieni da cazzo Mi danno Vieni da cazzo Ma perché sono più veloci a lui Perché sono più veloci Perché Perché Cristo Santo Ma guardate come sono più lenti Ma guarda Oh Tre ore per fare un passaggio E' il fallo Avete visto il bug dei falli Voi non ci credete ancora? Eh? Voi non ci credete ancora? Guarda Eh vabbè Voi non ci credete ancora? Che fanno i falli e non glieli fischia? Questa è la pure dimostrazione Quello è già rientrato Oh è già rientrato quello Guardate Guardate il bug del fallo Guardate Non glieli fischiano Sono i bug dei falli Ragazzi Sono i bug dei falli Che io non so E non me li diranno mai Come Cristo cazzo si fanno Io lo so che ci esiste Ma non te lo diranno mai Non te lo diranno mai E' segnata ancora con un gol fatto da me Stiamo a 60 es Merto campione Dai Quell'altro coglione Di noi gliel'ha dato la palla E da mezzo che ho messo pausa Non riesco ad andare in pausa Oh Niente Le palle le sto dando io a lui Oh Continua a dargli io le palle a lui Va bene Vai con l'R2 Vai R2 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 Vai Tira dal picciono di tua madre Dalla casa del picciono di tua madre Tira Vabbè va Metto il camion Ma come cazzo si fa un bappe così lento raga Ma l'avete visto un bappe è 101 Lento 101 e questo è lento E' una lumaca raga E' una lumaca E' una cazzo di 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 lumaca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma continuo ancora a dare le palle io agli O-Meng, così credi. Come continuare? Assurdo. Vai, batti, batti di nuovo avanti, dai, testa di cazzo, vai. Vabbè. Ecco il gioco e non gliela ha fischiato. Ma guardate, raga, è inutile, le becca tutte lui. Eh, le becca tutte lui, oh. Ma come si fa? Questo serve finire a zero. Gliel'ho fatto fare io il gol. Ma perché ha tirato col cinema? Perché ha tirato col cinema? Perché? Perché? Se questo è merito campione, veramente, io non ho parola. Se questo è un merito campione con oltre il 60% di vittoria, io non ho parole. Eh, va bene. Andiamo avanti così. Eh, va bene. Andiamo avanti così. Eh, va bene. 16T. Ma dove cazzo li ha fatti i 16T? Raga, ma poi piace, guagno, ma poi piace, le dà. Ma poi piace il 16T? Questo è un merito campione. Ma vaffanculo, Konami. Vai a fare, oggi ho registrato 3.000 video, ho registrato. Vai. Questo è un merito campione. Se questo è un merito campione, mi viene da la vita. Questo è un merito campione. Nei ma, vai a fare in culo pure tu, vai. Questo è un merito campione. Questo è un merito campione. Ma di che cazzo stiamo parlando? Questo è un merito campione. Ma porca puttana maiala. Ma vale, ma com'è. Non che mi scrivete, non rispondo più a nessuno. Andate a fare in culo tutti quanti. Questo gioco è di merito. Questo gioco è di merito. Questo gioco è di merito. Io non so che cazzo mettere là. Devo rimettere su sto coglione qua. Quanto non lo voglio rimettere. Vabbè, abbiamo capito. È giunto il momento. 85. Ma porca troia. Mi sto incazzando come una bestia. Madonna mia. Anzi, un'altra cosa che devo fare, perché mi sono stufato. Devo togliere i messaggi privati. Basta, mi sono stangato. Non le vuole più sapere. Non le vuole più sapere. Normalmente, bisogno. Allora, per favolgere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Cioè, tra questa partita e la partita precedente, veramente, è una cosa allucinante. Una cosa allucinante. Vai. Ma tu quando muovi la mia mente, che cazzo devo stare a vedere? Che cazzo devo stare a vedere? Ritorniamo a giocare a questo moto. Ritorniamo a giocare. Ritorniamo a giocare. Mamma mia. A far parte dei miei contenuti. Eh, fratello mio. Cioè, rodo il culo a perdere. Cioè. Prendila come, non lo so, Bruno. Prendila come, non lo so, Bruno. Non lo so, Bruno. Oh. 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 Ma che cazzo questo sistema. Ma mamma mia, ragà. Patrice Fiera. Patrice Fiera. è stato un'escalante ma che cazzo fa ma ti stuta là ma che cazzo ma che cazzo non è fallo là ma ma che cazzo la muerta della cross mannaggia la muerta della cross io veramente sto capendo un cazzo oggi io non sto capendo un cazzo vabbè 600 punti eventuali a linea laterale va bene e continuiamo raga io l'80% di gol che subisco è sempre in questa maniera balona basta mi sono rotto i coglioni basta cioè non è possibile non mi butta mai la cazzo della palla mai e togliere mandangue mamma me non fischio un cazzo di queste cose ma io veramente questo accesso questo è un altro accesso ragazzi questo è un altro accesso per quanto mi riguarda guarda 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 quanto è culo guarda mamma mia ma fisca tutto contro di me mi volto ragazzi prendo sempre gol in quella maniera o regalo io le palle o veramente non le rinvia mai ma guardate guardate cioè i rimbalzi non sono una cosa per me la prendi? no la prendi questo che c'è non so quando di velocità non la prendi batti ti muovi qua li ce ne vanno dietro è le due ma guarda come cazzo va piano Ronaldo ma come Cristo va piano Ronaldo ma come cazzo è no vabbè benissimo cross io chiudo pure gli occhi ma la penne anche a seguirci ho tutti i tre di grattarmi l'occhio perché tanto da me fate sempre la stessa cosa e vabbè quello che gli passa avanti quello che gli passava di nuovo mi sta andando le voragini poi c'ho le autostrade e non riesca a riparti incontro mamma mia mamma mia mamma mia c'è da la gamma ma guardate ma guardate lo schifo crossa dai aspetta in aria ok bravo oh si così ti vuoi le voragini mi sta lasciando le voragini le voragini mi sta lasciando figlio mio se levora poi contro di me a fare queste cose a fare queste cose Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, ma vi rendete come? Quando dico che perdo con il Celsio, pareggio, bimbo... Cioè, ma vi rendete come? No, 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 no... Vabbè... 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 Cazzo devo dire... Vabbè... Vabbè... Guardate... Guardate... Marona... Continua a regalare io le palle... Andiamo avanti... Eh... Va... Sì... Sì... Vai... Continuiamo a farlo schifo, vai... Continuiamo... Ma... Stati un'altra mezz'ora... Un'altra mezz'ora... Stati... Ma... Madonna... Questa assoluta... Ma in effetti glielo diamo preciso il passaggio... Perfetto a Ronaldo è andato il passaggio, ragazzi... Ma guarda, non ho il passaggio anche al porto, ragazzi... Ma... Madonna... 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 Io non sto avendo proprio parole... Dai, quelle le due... E tanto te la tolgo... Dai, quelle le due... E tanto te la buto, sta cazzo da parola... Ma... Che c'è così... Sì... Io non devo segnalare... Perché devo segnalare? Sì, dalla indietro... Dalla... Sempre indietro, da... Che cazzo... E parti di giù... Che cazzo... P Hans Il.... Che cazzo... San D'acquaro mio lingam sta partita si continua ma rega la gama da acqua mio lingam vabbè poi in effetti c'è la gambista e porto pochi in banchino e chi ha messo in porta? Fernando Torres ah non ci ha portato in banchino vedo lì in gu va bene buca jr cioè io non vabbè va bene in porta non c'è un portiere io che faccio? sbaglio quindi non stanno c'è un portiere in porta vi faccio vedere una cosa che è? è che la parla anche amata vabbè questa me la vedo male raga me la vedo male beh chi è stato? io ci avevo scivolato a tomate come cazzo va testa di cazzo? ma non c'è nessuno di Mila raga ma cacare va ma che gioco di merda raga che gioco di merda 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 che gioco per avere 5 punti ma 4 quanti me ne darà? 5 punti che ho detto io? 294 partite 5 punti di merda però quando devi perdere assai te li togli ma vai a cagare va ma vai a cagare va ci vediamo presto